Due auto bruciate, una terza lambita dalle fiamme, danni alla facciata di un'abitazione, notte di fuoco a Magliano, la frazione di Carmiano. E il sospetto è che l'incendio sia di origine dolosa. È successo poco prima delle due in via Umberto Giordano. Le fiamme hanno avvolto prima una Mazda in uso ad una donna trentenne che gestisce un supermercato a Monteroni e una Fiat di proprietà del padre, carabiniere in pensione da diversi anni. L'incendio ha danneggiato anche la facciata agli infissi dell'abitazione ed ha lambito una terza auto parcheggiata poco più avanti. Sono stati i residenti a dare l'allarme e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco o del distaccamento di veglie insieme ai carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Campi Salentina. Le indagini sono in corso. Sull'origine dolosa sembrano esserci davvero pochi dubbi. Gli investigatori alla ricerca di elementi e di conferme stanno visionando i filmati dei sistemi di sorveglianza installati in zona. Le immagini ed eventuali testimoni potrebbero essere determinanti per ricostruire l'accaduto. Ulteriori elementi potrebbero venire anche dalla dichiarazione dei proprietari delle vetture per chiarire i contorni del raid incendiario.